Faremo una vittoria devastante, fulminante, distruttiva Com'è bello spaccare tutto quanto a corso commercio di qua e di là Ok, basta, centro pornotto a risparare Dov'è il passerottino di Omeguzzo? Esci fuori Bello, ciao, ciao Vai, 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 guardate quella mitra, l'ho ucciso! Non ci credo! I will be, I will be, I will be, I will be... Ragazzi, come sapete, sbloccando tutto il pass stagionale Abbiamo, diciamo, al massimo quasi tutto Ci mancano veramente poco poco E molti di voi mi hanno detto che volete vedere Ragnarok perché mi piace l'ultima skin, no? Quella super figa, cazzuta, consigli come Ragnarok alla deriva Sono, diciamo, quelle più belle di questa stagione Che riguardano questa stagione Anche se c'è anche tipo la bagnina che mi piace e tante altre Quindi, faremo una vittoria devastante, fulminante, distruttiva Cercheremo, perlomeno, sperando di non arrivare secondi Anche perché la play è accesa Quindi ora ci mettiamo le cuffie, ragazzi Ci spariamo una mega vittoria reale con Ragnarok fulminante Spacchiamo tutto, cerchiamo di fare 15 kill Sarà un po' difficile, però più che altro perché non si trovano le persone Infatti non so come facciano gli altri a farne 200 miliardi Scendiamo a corso, fin da qui, non lo so Devastiamo tutto con Ragnarok, Omega e Ragnarok Devasteranno tutto in questa sessione, in questa lobby di Fortnite Quindi, mi raccomando, ragazzi, un bel mi piace prima di partire Iscrivetevi al canale perché arriveranno video inediti prossimamente Quindi anche da domani, dopo domani Per cui, mi raccomando, che ci conto, eh Mi raccomando, iscrivetevi Mettete un mi piace Giusto visto che passiamo da corso Ho deciso di scendere a corso Allora Come sapete, ragazzi, abbiamo shopato tutto il passo stagionale Dove c'è Ragnarok Ci sono tutte le scie Cioè, ci sta tutto Quindi, mi raccomando, ragazzi, questo video spolliciatelo Tanto, tanto, tanto Perché Stiamo solo sicuro che io e Ragnar, ragazzi Spaccheremo tutto insieme Ve lo giuro Distruggeremo tutto Non sto scherzando Ne sono sicuro Ok, male che vado, arriveremo secondi, terzi, quello che è Ok, allora Vediamo dove atterrare No, non ci sta niente Ah, vabbè, sì, ci sta la pozza L'assalto Fatemi sparare questa E dato che mi ordino le armi Allora, ora cerchiamo di luttare veloce, veloce, ragazzi Così vediamo un po' di Ammazzare qualcuno Rapido, veloce, veloce Ai negozi ci sarà qualcuno Ecco la cassa Dai, dammi qualcosa di bello Vabbè, dai, doppie pistole e bende Queste le prendo volentieri Com'è bello spaccare tutto quanto A corso commercio di qua e di là Ok, basta Sento un'altra cassa Sarà dall'altra parte Oh, il pompa No, che cazzia il pompa Dai, mi sembrava che non era il pompa Che non fosse il pompa Questa me la cambio I scudi me li tengo Però devo lasciare le bende Vabbè, fa niente Sento spari All'ottacco Andiamo a Ragnar Quindi come vedete ragazzi Ragnar l'abbiamo sbloccato Quasi al Manca tipo 20.000 di esperienze Lo sblocchiamo col teschio Quindi ho cercato di farvi sta partita Perché comunque Vediamo se riesco a fare un buon risultato Il C4 ragazzi Attenzione Questo gioco mi vuol viziare col C4 Anche se no Forse è meglio prendere la mitraglietta a sto punto Ah, ti piace Adesso Ah, 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 ah Il gatto vi piace amattare la C4 Perché non entra in colpi Senomale In un momento Dice Perché non entra in colpi Sento un altro porno attore Sento porno attori sparare Sioni Lanciarocco Lanciarocchi Lanciarocchi Lanciagrenate ragazzi Comunque mi accontento Adesso un attimo Al volo di queste Anche perché Se lutto troppo Poi va a finire che muoio Quindi Dov'è il passerottino Di Omeguzzo Esci fuori Vediamo se scappi con questo Vi giuro ragazzi Mi diverto troppo A vedere quelli che si varicano Ti continuano a costruire Non stare tu li spari Poi va a finire inevitabilmente così Dovrei sparare il medikit A sto punto Va che è meglio L'abbiamo capito È meglio fare col mitragliore Così è sicuro che muore Vabbè Meno male che abbiamo i mini scudi Ora Andiamo a mezzo full Là c'è il medikit Ragazzi Abbiamo lasciato il corso commercio Per dirigerci verso Magazzino Gli ex magazzini Vediamo un po' se troviamo gente Nei dintorni A questo punto Dove sei porno attore Esci Eccolo lì Uno Due No no niente ragazzi Pensavo di volerlo fare Ma no Meglio di no Sta l'arbero in mezzo E a colpire l'arbero E non lui Bravo Scendi Che adesso vengo a prenderti da dietro Come Rocco Ti prendo come Rocco Da dietro Porca miseria Non pensate cose brutte Mi raccomando Vai Ragnar Vai Ragnar Ragazzi c'è il casino Adesso partiranno le kill Una dietro l'altra Perché la safe Si sta restringendo sempre di più E stanno tutti qua praticamente Li sento dai passi Dai cosi Dagli spari No dei passi non ancora Ma che pensi di sfuggire o megozzo E Ragnar Guarda adesso che te costruisco Dai prova a venirmi sopra Dai prova a venirmi sopra Ecco Lo sapevo Mi devo imputtanare ogni volta Meno male che è caduto Ma ci deve essere sempre qualcuno Che spara da sotto Porca miseria Quello dovrei provare a prenderlo con caccia In realtà Però devo prendere Prima questo che mi sta pushando Bello Ciao Ciao Sono in due Muori E muori anche tu Ah no non l'ho preso Muori 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 Eeeh Bello Siamo esse killed Senza accorgermi Ho altri mini scudi Ho visto Però non mi servono adesso Cioè non posso portarli Più che altro Anche non mi servono Ma non ne stava uno giù Ho visto male Ho è salito Vabbè Aspettemi prendere qua Che ho visto che aveva perso il lutto questo Che sta C4 Pompa blu E nient'altro Munizioni e tutto Ecco sento altri spari Ecco c'è gene ragazzi Qui ci sta un botto di gente Aiuto aiuto Ovviamente la vedo un po' difficile Però posso provare a prendere quello col caccia Ma non penso di riuscirci E infatti Ha fatto la finta Vai 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 Fermo 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 E vi state fermi Porca miseria Non riesco a perdere la mira Ah Eh che si è spostato Giusto a vedere Oh Sì Preso Cioè sento Sento passi Aspettate Questo sta qua ragazzi Lo sapevo Ve l'avevo detto Che stava camperato qui Intanto ne ho ammazzato uno col cacciato da lontano E ce lo siamo levati davanti Siamo rimasti in 7 C'ho 8 kg Cioè siamo rimasti in 8 E ce l'ho 7 kg Sono il contrario Ma dov'è Vuoi uscire Ecco Ecco è uscito Perfetto Ora sappiamo dov'è il tipo Dai dai vieni Esci bravo Esci bravo Boom Eh vabbè dai Più o meno Mi siete chiedendo Perché sto usando la mitraglietta Perché ragazzi Gli assalti ormai Mi hanno stufato Quindi sto usando solo le mitragliette Vai 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 Guardate quella mitraglietta L'ho ucciso Non ci credo Meglio dell'assalto L'ho ucciso Aspettate Sento spari sotto di me Oh ma questo qua Mi ha proprio seccato Ho capito Se non lo vado a scovare io Figurati se esce sto cane E oh ragazzi Sta qua per forza Guarda che schifo Che schifo È un robot Sta fermo Intanto mi sono fatto Un'altra kill gratis Oh mio dio Che ha lasciato Aspetta 7 passi 7 passi Oddio c'è un omega C'è un omega Vieni qua vieni Ma pure questo è anticampato Oh merda Stavo per sbagliare tasto Stavo per fare una cosa Costruisci Costruisci Mi fai ricaricare Maledizione Mocca a te Vabbè dai Questo non sta a costruire ragazzi Abbiamo capito Questo gioca solo Per sparare No 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 Ma perché faccio ste cose A volte mi chiedo Perché faccio ste cose Sono in vantaggio Cioè sono in vantaggio Me ne vado in svantaggio Dai vieni Vieni Bravo Bravo Sei stato bravo Proprio Sei stato bravo Cioè gli ho messi a posta Le trappole E non Vabbè dai Una chi più voce di questo Ragazzi non l'ho mai vista Ok intanto fatevi sparare Sti scudi Ok dovremmo essere a posto Lì avevo visto Bolt action Pompa Vediamo Valutiamo un po' Cosa prendere Vabbè innanzitutto I mini scudi Sicuramente li dobbiamo Prendere gli altri Sentite Sapete che faccio Io Sono un po' insicuro Vabbè Fatemi prendere Il pompa nuovo Il cecchino No perché Proviamo col Col caccio A sto punto Sembra che sappia Costruire però C'ho lo scarro Adesso signori La cosa si fa Importante Si fa importante Come Con un cappa di colpi Mille colpi Te li trapano Sai dove Meglio se non lo dico Oh merda Vieni qua Vieni Oh mitraglietta show Signori Ragazzi Una nuova mitraglietta Specialmente se ce l'avete Verde È Forte Anche grigia È davvero Forte Ehi bello Ciao Vieni qua Ciao Vabbè Questo è stato facile Ragazzi Era nabbo Era abbastanza nabbo Poi chi sono io per dire che è un nabbo Oddio Sento un ultimo Ah ma siamo rimasti due Oddio ragazzi Uno contro uno No 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 Non voglio partire svantaggiato Ragazzi Me ne sono accorto Siamo rimasti uno contro uno L'altro avrà ammazzato anche quello No No Forse non hai capito Qua Qua Questa la vincolta Oh merda No No 60 di vita No sono one shot Sono one shot Sono one shot Meno male che c'avevo sta jump C'ho anche 999 di ogni cosa Hai capito male questo qua Fammi piazzare le trappole Così faccio l'infame Fammi sparare gli scudi No no ragazzi Questo non la vince Non lo so Per quanto tempo abbiamo intenzione di andare avanti così Fammi capire Non ci credo È sceso di nuovo ragazzi Se la sta camperando ancora Basta Questa Ora mi è davvero stufato Cosa Ho perso 25 di vita No 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 Oddio no Sono Sono one shot con lo sputo ragazzi Sono one shot con lo sputo praticamente Allora non so se questo è forte o sta avendo culo Però in ogni caso Ora mi è davvero sancato Allora gli sfondo tutto Ok Facciamo adesso l'altro Oh si sta curando Si sta curando Adesso 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 Sì Bello così E guarda che te costruisco Sì Sta bella vittoria Con 12 kill E o me cazzo Costruisce tutto Ma ne vogliamo parlare Io e Ragnar Abbiamo spagato tutto Porca miseria Abbiamo spagato tutto Con 12 kill 12 Uccisioni Ragazzi Io e Ragnar Con l'ultima skin Del pass battaglia Ragazzi Abbiamo spagato tutto Distrutto Devastato 12 persone Anche se l'ultimo Ho rischiato seriamente di morire Perché ho fatto delle puttanate Perché a volte mi piace pushare E quindi Lo so per prendere quel posto Però Ce l'abbiamo fatta Abbiamo vinto Ragazzi Sembrava impossibile Ma ce l'abbiamo fatta Vittoria reale Con l'ultima skin Del pass battaglia Con Ragnarok Quasi pompato a massimo Vittoria reale Fulminante Con 12 kill Quindi Ragazzi Siamo usciti nell'obiettivo Quindi penso che Abbiamo fatto bene Quindi Ditemi se vi è piaciuto il video Con un bel like Se vi è piaciuta la partita Iscrivetevi al canale Per questa vittoria Fulminante Che abbiamo ottenuto Con Thor Ragnarok Ragnarok È meglio Sì è meglio Vi ricordo che Arriveranno tanti altri video Di Fortnite Quindi consigliatemi Anche nei commenti Ragazzi Quindi Spero il video vi sia piaciuto Come gozzo Bellissimo vittoriale Ci sentiamo Alla prossima vittoria E al prossimo video di Fortnite Ciao